Sulla trasparenza totale, siamo a due anni dal FOIA, ho quasi sei anni dal decreto 33 del 2013, a che punto siamo? La mia valutazione è che di trasparenza non si deve morire, nel senso che la trasparenza deve aiutarci a crescere, non deve essere un valore astratto in nome del quale creare una serie infinita di adempimenti che non soddisfano il cittadino e che appesantiscono la pubblica amministrazione. FOIA, bellissima idea, legge che non conosce nessuno, una legge in cui si prevede la trasparenza, in cui si prevede l'accesso da parte del cittadino non conosciuto dal cittadino, è una legge che non ha raggiunto il suo obiettivo. Grazie a tutti.